Il round nasce dall'esigenza di fare un prodotto a incasso per gli esterni, con una caratteristica IP molto elevata per il settore, perché arriviamo fino a IP66. È un prodotto a incasso che per il tipo di utilizzo non giustificherebbe un design così spinto e quant'altro, ma nella filosofia aziendale l'esigenza di creare un prodotto dove c'è una ricerca formale, un rapporto di qualità, di esperienza e di sviluppo dell'azienda ha portato alla realizzazione di questo oggetto. È una forma essenziale pulita, composta da due elementi, uno che è il corpo dell'oggetto in vero e proprio, impreso con l'alluminio, e una parte aggiunta che è il box dei componenti, messo lateralmente rispetto allo stesso perché ne consente una riduzione di dimensionamento per l'inserimento nei controsoffice. La presenza del vetro a filo rispetto alla cornice stessa, una caratteristica molto importante dal punto di vista dell'estetica dell'oggetto. Il round nasce con la possibilità di inserire degli accessori per migliorare le condizioni del flusso luminoso e ridurre l'abbagliamento diretto. Le varie sorgenti che monta il round, molte sono rivolte al risparmio energetico e all'ecosostenibilità. In che modo? Utilizzo di LED, i LED consentono una durata maggiore della lampada e quindi una riduzione delle attività di manutenzione e di smontaggio dell'apparecchio per l'associazione della lampada stessa. Una cosa importante dell'e-round è l'inserimento nell'architettura. Questo apparecchio ha la caratteristica peculiare di essere inserito nel contesto e omogenizzarsi o scomparire completamente lasciando soltanto l'essenza della luce. La ricerca formale del corpo illuminante è molto rappresentativa di un'azienda portata a ricercare nel mercato forme e qualità di progettazione.